Io credo che a questo punto tutte le forze politiche hanno indicato le priorità al Presidente Conte, era il percorso iniziato il 5 novembre a Palazzo Chigi, ora bisogna in fretta chiudere questa fase perché non si può vivere dell'incertezza in eterno. Questo vale per il Governo, la sua prospettiva e solidità, ma vale in maniera particolare per quanto riguarda poi il recovery, perché bisogna su questo, in queste ore decidere e mettere in moto la seconda fase che è quella dell'ascolto, del coinvolgimento del Paese, che è molto importante, dell'iter parlamentare. Quindi il PD chiede da questo punto di vista che si decida e il Governo proceda sul recovery e si chiuda una stagione che ha visto dal 5 novembre le forze politiche, la compagine di Governo, il Presidente del Consiglio, confrontarsi su come dare stabilità e solidità e sicurezza agli italiani. Questa fase credo si sia conclusa, ora è il tempo delle decisioni.